dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù giunto nella regione di cesarea di filippo domandò ai suoi discepoli la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo risposero alcuni dicono giovanni battista altri elia altri geremia o qualcuno dei profeti disse loro ma voi chi dite che io sia rispose simon pietro tu sei il cristo il figlio del dio vivente e gesù gli disse beato sei tu simone figlio di giona perché né carne né sangue te lo hanno rivelato ma il padre mio che è nei cieli e io a te dico tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa a te darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il cristo grazie a tutti 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 grazie a tutti